Iglesi ha stentato omicidio ieri sera in una strada del centro storico. Un ucraino è stato colpito al petto da un coltello. Non è in pericolo di vita. L'aggressore arrestato si trova adesso nel carcere di Buon Cammino. Tasi ancora 13 giorni per il pagamento della tassazione sui servizi indivisibili. Nel Tg consigli su come pagare il balzello col segretario della di Consum Giancarlo Cancedda. Giro Tonno chiude il sipario con successo. Migliaia di visitatori hanno preso parte alla manifestazione internazionale sul Tonno Rosso. A Sant'Antio con numerose presenze per la Laguna Espone, la prima edizione della Fiera della Nautica. Verde azzurro pan di zucchero. Operazione coste pulite. L'associazione di Nebida ha inaugurato Sardinia senza aliga con la pulizia delle strade che portano al mare. Ben ritrovati nel Tg di Canale 40. Tentato omicidio ieri in una delle strade del centro storico di Iglesias. Un cittadino ucraino è stato accoltellato al petto da un disoccupato residente nel posto. Fortunatamente non corre pericolo di vita. La cronaca. Un accoltellamento nelle strade del centro storico di Iglesias. In seguito ad una lite per futili motivi, Claudio Manca, 26enne con dei precedenti di Iglesias, ha colpito al petto con un coltello tipo pugnale un cittadino ucraino. Volo di Merkotsur, 21enne, operaio, anche egli residente ad Iglesias. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Santa Barbara ma non corre pericolo di vita perché l'affondo della lama ha raggiunto le ossa dello sterno e fortunatamente non gli organi vitali. Secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri della stazione di Iglesias, coordinati dal maresciallo Bruno Ventagliò, Claudio Manca ha subito dopo l'aggressione, si è disfatto del coltello e ha tentato di darsi alla fuga. L'intervento dei militari ha consentito di rintracciare poco dopo l'aggressore che è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Per i rilievi sul luogo del reato è intervenuto anche il personale del nucleo radiomobile della compagnia dei carabinieri che dopo un'attività di ricerca ha recuperato l'arma del delitto che l'aggressore aveva lanciato sopra il tetto di un'abitazione. Claudio Manca si trova adesso rinchiuso nel carcere del Buon Cammino di Cagliari. I due, solo quattro giorni fa, erano stati arrestati dagli agenti del commissariato di Gleisas per furto aggravato. È stato un'overdose di droga a causare la morte di Anarita Pambianco, 38enne di Carboni, ad ex promessa del ciclismo. Il suo corpo, oramai privo di vita, è stato ritrovato nell'appartamento di Via Ismirionis a Cagliari, dove Rita viveva ormai da alcuni anni. Una vita fatta di sport, ma anche di molte sofferenze e difficoltà, dalle quali tuttavia sembrava essere venuta fuori, poi la ricaduta. Non ci sono dubbi sulle cause della morte della giovane donna, tuttavia il PM ha disposto l'autopsia sul corpo di Rita in quanto sembrerebbe che stiano circolando partite di droga tagliata male e le indagini dovranno ora risalire agli spacciatori. Gli operai dell'Alcoa da 31 giorni in presidio fuori dallo stabilimento, questa mattina hanno bloccato l'ingresso in fabbrica dell'amministratore delegato Giuseppe Toia, perché hanno detto gli operai Toia rappresenta il responsabile delle trattative con i possibili acquirenti che intendono rilevare la fabbrica di alluminio di Portovesme. Toia, quando è stato bloccato, non ha posto resistenza e rispettato il volere dei lavoratori. Un'azione simbolica per dimostrare che gli operai vigilano su chi entra e chi esce dalla fabbrica. Scadrà il 16 giugno prossimo il termine ultimo per il pagamento della Tasi, la tassa sui servizi indivisibili. Per capire meglio come poter affrontare i pagamenti, ne abbiamo parlato con Giancarlo Canceda, segretario territoriale della Di Consum. L'intervista. Giancarlo, il 16 giugno scade il termine ultimo per il pagamento della Tasi. Come ci dobbiamo comportare? Bene, la Tasi sappiamo un po' di che si tratta. La Tasi è la tassa sui servizi indivisibili del Comune. Parliamo di luce, verde pubblico e spese varie. Ora il Comune di Carboni ha per tempo deciso di far pagare la Tasi, ha stabilito già l'aliquota che è l'1,5% sulla rendita catastale. Bisogna pagarla entro il 16 giugno. Ora il problema che hanno i cittadini nostri di Carbonia qual è? È che abbiamo da oggi circa 10 giorni di tempo per pagare la Tasi. Il vero è che il Comune ha nel suo sito messo il programma in modo che ognuno possa scaricarsi il programma, farsi il calcolino, stampare l'F24 e andare a pagare. Ma Carbonia purtroppo è una città vecchia, una città in cui almeno il 50% della popolazione di computer non capisce niente, non ne vuole capire, non può capirlo, non è in grado di capirlo. Comunque non lo conosce. E cosa fanno queste persone? Si rivolgono a degli esperti, professionisti o improvvisati professionisti per farsi questo benedetto F24 per poter pagare questa Tasi. L'alternativa quale potrebbe essere? L'alternativa, la cosa più utile, più semplice, il Comune avrebbe, visto che il Comune di Carbonia ha già da mesi stabilito qual era la tariffa da pagare, inviare a tutti i cittadini l'F24 in modo che tutti, ne sia una conoscenza, vadano e paghino senza spese. Perché oggi un professionista, un presunto tale che fa l'F24 chiede dai 5 ai 10 euro, quindi è una spesa aggiuntiva. Un'altra cosa a cui lamentiamo al Comune, all'amministrazione, se l'amministrazione avesse fatto quel che deve fare, convocare le associazioni sociali per spiegare come comportarsi, le associazioni si possono sostituire al Comune, preparare questi F24, aiutare la popolazione, quindi far risparmiare un sacco di soldi. Purtroppo non è avvenuto e quindi adesso ci sarà un pochino di indecisione, un po' di caos, aggiungo io. Insomma, tra breve si dovrà pagare anche un altro balzello. I cittadini sono un po' disorientati anche per quanto riguarda il pagamento della Tarsu. Sì, insieme alla Tarsu si paga a Limo, poi presumo da settembre, perché ancora non abbiamo notizie certe, si pagherà la vecchia Tarsu, la Tares vecchia, cioè la tassa sui rifiuti solidi urbani. È previsto un congruo aumento, che ne dica qualcuno che non ci sarà. Perché è semplice? Abbiamo letto il bilancio comunale che da 5 milioni e 100 si è passati a 5 milioni e 400 come costo totale della Tarsu. Quindi questa differenza di 400 mila euro andrà divisa fra tutti i cittadini. Il problema qual è? Che il contratto con la dita in essere è scaduta e è stato prorogato. Se per tempo si rifanno gli appalti si può anche rivedere il costo e quindi diminuire le tasse. Purtroppo questo non è avvenuto. Speriamo bene per il futuro. Grande successo per il Giro Tonno, che ha chiuso i battenti ieri sera, registrando la presenza di numerosi visitatori. Il servizio. Mare, cibo, spettacoli, sport, ma soprattutto tanti visitatori, per onorare il tonno rosso. La quattro giorni della dodicesima edizione del Giro Tonno chiude il sipario con un bilancio positivo. Dal 30 maggio al 2 giugno la città di Carloforte ha accolto turisti provenienti da ogni parte del mondo per degustare, conoscere e apprezzare le prelibattezze del tonno rosso pescato in una delle tonnare più antiche del Mediterraneo, come quella dell'isola di San Pietro. Ha degustato il tonno magari con una specialità? No, abbiamo mangiato un restaurante, abbiamo mangiato tanti tipi di tonno, sì, è buonissimo. Grazie. Ho assaggiato l'affumicato, quello la cardofortina, sì, credo tutti ormai. E' stata la Francia quest'anno, con l'insalata di Tonno Nizzarda, la trionfattrice della Tuna competition, fulcro della grande Kermesse gastronomica internazionale, con una giuria presieduta da Paolo Marchi. Chef in azione, piatti da degustare anche al Teatro Cavallera, col Giro Tonno Live Cooking, presentato da Novella Caligaris, Giletti ad Atoforfè all'ultimo momento. Degustazioni di specialità a base di tonno ai sapori carlofortini, anche sulla banchina Mamma Mahon. Il lungomare era invaso da turisti, che ad ogni ora sbarcavano dai traghetti senza sosta. Austria, Spagna, Germania, Stati Uniti, Giappone. A Carloforte sono arrivati da ogni parte del mondo, quasi tutti per il Giro Tonno. Una manifestazione che coinvolge gastronomi, chef, cultori del tonno e giornalisti. La rassegna è stata organizzata dal Comune di Carloforte, in collaborazione con l'Agenzia Feedback di Palermo e il patrocinio di Sardegna Turismo. È stato un fine settimana ricco di eventi e manifestazioni in tutto il sul Cisiglesiente, oltre all'ormai collaudatissimo Giro Tonno a riscuotere un grande successo, è stata anche la manifestazione La Laguna Espone, organizzata dalle associazioni e dai commercianti di Sant'Antioco. Una manifestazione che ha richiamato in città un gran numero di visitatori. Il servizio è di Manolo Murendu. Insomma, un modo per far conoscere il sul Cisiglesiente, per stare insieme e anche per far uscire la gente di casa. Certo, certo. Un'ottima iniziativa anche perché, come sappiamo, il sul Cisiglesiente è molto abbattuto e speriamo che questa fiera sia una delle tante che attiri tanta gente in un posto stupendo come il nostro. Come sta andando questa giornata di esposizione? Siamo ancora all'inizio, però sembra stia andando abbastanza bene. Adesso vediamo un attimino stasera, se migliora un po' e domani sicuramente ci sarà il boom. Vediamo un po', a fine dei conti cercheremo di dare un esito positivo, spero. Un'occasione importante per promuovere le specificità, le eccellenze del territorio e tutte quelle realtà produttive e commerciali che possono dare molto al sul Cisiglesiente. Assolutamente sì, sono qualsiasi tipo di iniziativa in questo momento importante. Deve dare anche un po' di coraggio alle persone, assolutamente. Buongiorno, come sta andando la giornata? Mi pare abbastanza bene, c'è parecchia gente, parecchi stand, la gente è curiosa, quindi va abbastanza bene. Insomma, è un'occasione importante per Sant'Antioco? Penso di sì, era da parecchio che non si vedeva una cosa del genere, la gente ha risposto abbastanza, mi pare che sta andando tutto abbastanza bene. Questa è la dimostrazione che se si vuole in questo territorio si può promuovere al meglio i nostri prodotti e anche rappresentare un'alternativa? Assolutamente sì, questo è un territorio che al momento soffriva di un po' di poca convinzione, non siamo inferiori a nessuno, l'abbiamo sempre dimostrato e anche questa è un'occasione per farlo. Qual è il bilancio della prima giornata? Per il momento siamo all'inizio, quindi ancora non si è verificato un grande afflusso di niente, però la manifestazione sembra abbia le carte giuste per poter partire e dare una buona svolta a Sant'Antioco. Questa è la dimostrazione che quando si organizzano giornate di questo tipo, le persone escono, partecipano, rimangono soddisfatte e soprattutto i commercianti possono esporre i loro prodotti e avere anche riscontri, nonostante la crisi economica intendo? Assolutamente sì, noi siamo la prova appunto di questo, noi inteso come noi tutti gli espositori siamo la prova di questa esposizione. Inizia oggi il rientro ad Iglesias del simulacro della Madonna di Montserrat. La Santa, venerata in tutta l'isola, si fermerà a Gonnesa intorno alle 16.45 per fare il rientro domani nella cattedrale di Iglesias, dove da sempre viene custodita fino al prossimo anno per la festa patronale di Tratalias. La diocesi di Iglesias, su impulso del suo vescovo Giovanni Paolo Zeda, in collaborazione con i tre uffici pastorali coinvolti nel progetto Policoro, inizierà un percorso di riflessione sulla lettera pastorale, un cammino di speranza per la Sardegna, documento reso pubblico il 19 marzo scorso. La lettera pastorale intende proporre una riflessione sui più urgenti problemi sociali e del lavoro dell'isola. In questa prospettiva si pone la tavola rotonda in programma sabato 7 giugno dalle 9.30 nella sala convegni della grande miniera di Serbariua a Carbonia e porrà l'attenzione su tre specifici versanti del testo, quello economico, quello pastorale e quello politico. Grande successo ad Iglesias per la manifestazione Monumenti Aperti. Tra il 31 maggio e il 1 giugno la città ha colto numerosissimi visitatori nei 43 siti proposti dal Comune e dalle associazioni cittadine. Il pienone si è registrato nella cattedrale di Santa Chiara, aperta al pubblico solo sette mesi fa e visitata da oltre 1500 persone nella giornata dei monumenti aperti. Altri siti presi da Fasalto sono stati il Campanile della Cattedrale e la Torre Guelfa, assolute novità in questa undicesima edizione iglesiante. Alla manifestazione hanno preso parte 500 volontari, tra studenti e rappresentanti di associazioni. Per gli organizzatori e gli amministratori, le visite ai siti costituiscono un'esperienza da ripetere durante l'anno, perché molto apprezzata da cittadini e turisti. Una mostra fotografica per raccontare la storia della pesca del tonno. Ad organizzarle, l'Associazione Culturale della Terza e Seconda Età di Porto Scuso, che esporrà le suggestive immagini nei locali de Sumarchesu. La mostra aperta al pubblico sarà visitabile da lunedì alla domenica, dalle 18 alle 20, fino al giorno di Ferragosto. Operazione Sardinia senza aliga. È l'iniziativa messa in campo ieri dall'Associazione Verde Azzurro Pan di Zucchero di Nebida, che grazie alla collaborazione di 35 volontari, ha pulito i margini della strada provinciale 83, nel tratto tra Fontanamare e Nebida, frazione del comune di Iglesias. Barattoli di birra, buste di plastica, bottiglie, addirittura pneumatici, incastonati nel fusto degli alberi. Segno visibili di quanto tempo i rifiuti hanno stazionato in mezzo alla vegetazione. I volontari, li vediamo nelle foto, muniti di guanti, mascherine e sacchetti, hanno ripulito il tratto della costa e ripeteranno l'operazione anche nelle prossime settimane. L'Associazione ha chiesto al sindaco di Iglesias, Emilio Gariazio e i rappresentanti della Giunta presenti all'iniziativa di vigilare per evitare che persone incivili continuino ad inquinare una delle coste più apprezzate dell'iglesiente. Questa era l'ultima notizia. Io vi lascio alle previsioni del tempo e vi ringrazio per averci seguito. La giornata di domani sarà caratterizzata da un cielo poco nuvoloso. Il vento soffierà da ovest-sud-ovest con intensità di 14 km orari, possibili raffiche fino a 18 km orari. Temperature minime comprese tra gli 11 e 16 gradi e massime comprese tra i 22 e i 26 gradi. La giornata di domani sarà caratterizzata da un cielo più grande.